A rezzo oggi e domani. Lo leggi e lo scrivi su tutti i muri, tempi duri. Questo verso, tratto da una canzone di Cristiano De Andrè, sintetizza bene le tristi notizie offerteci dalla cronaca dei nostri giorni, dai negozi che chiudono in serie per non più riaprire, ai suicidi ben più tragici di piccoli imprenditori nei loro laboratori artigianali per liberare la famiglia dalle pressanti richieste degli usurai e di Equitalia. Al tentativo superstizioso, ora che non basta nemmeno il lavoro ben fatto, della ricerca della fortuna in lotteria slot machine gioco d'azzardo, piaga cittadina già stigmatizzata a suo tempo dal vescovo, ora cardinale Bassetti. Mio cugino di primo grado, Gianni Cerofolini, orafo, mi conferma che in città si lavora sempre meno oro e sempre più bronzo. Anche la tradizionale migrazione verso Firenze, iniziata con Leonardo Bruni, indigente anche titolata, non costituisce adesso però la solita valvola di sfogo, dato che anche il capoluogo versa nelle stesse condizioni critiche. Mentre il terzo millennio assiste impotente al radicalizzarsi dello scontro di civiltà fra l'Occidente scristianizzato a prevalenza giudeo-protestante versus il mondo arabo fondamentalista islamico, il conflitto ventennale non ancora esaurito genera nuove chiusure, in un mondo sempre più interdipendente, costringendo i nobili al ritorno alla rendita fondiaria. La deindustrializzazione del localizzante vede la fine del Made in Italy, il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca-Cola e Visa, che ad Arezzo aveva assunto la forma del distretto industriale aureo e dell'abbigliamento di massa. Distretto, cioè un'azienda con tante aziende specializzate nello stesso settore che si scambiano conoscenze, mano d'opera, contatti, innovazioni, riuscendo così a mantenersi all'avanguardia ed a farsi conoscere sui mercati internazionali. Va via la lebole, ma arriva Prada, più valore aggiunto, meno posti di lavoro. Si crea ancora, ma solo per un'elite mondiale. Finisce così il lavoro di massa e di qualità che aveva trasformato Arezzo e la Toscana da regione sostanzialmente periferica, economicamente, non culturalmente, alla struttura economica complessiva del paese ancora negli anni 70, in un'area monoproduttiva in cui piccoli imprenditori locali creano specializzazioni in grado di autoalimentarsi col mercato interno pur essendo export-oriented. Finisce, questo finisce, anche Firenze, come Arezzo, rischia in questi anni di trasformarsi in una one company town turismo-centrica. Adesso cinesi ed indiani dormono sul posto di lavoro e producono beni a bassissimo costo per i loro datori di lavoro, ma di scarsa durata e nessuna qualità. Arezzo si trova così ad esportare nel mondo imprenditori e manodopera specializzata ora fa e tessile, alla pari degli altri centri dell'Italia di mezzo, con i quali ha condiviso una qualità della vita superiore solo 20 anni or sono. La moda di Arezzo ha fatto così la fine delle piastrelle di Sassuolo, delle calzature di montagna di Montebelluna in Veneto, della maglieria di Prato e Carpi, degli occhiali del Cadore, dei jeans delle Marche di Barberino del Mugello, delle sedie del Friuli. Proprio ora che ci sarebbe da rivestire un po' meglio il mondo, arredare civilmente le case dell'est Europa e ingioillare tutto il nord del globo, come ai tempi dell'esportazione della ceramica sigillata rossa durante l'impero romano. Una delle poche certezze della città attuale è sicuramente l'attività dell'ultimo vescovo mecenate Riccardo, che è riuscito a portare in città l'ultima visita bene, augurante, benedicente di Papa Benedetto, riuscendo anche a prenotarsi per la prossima venuta di Papa Francesco, che porta un nome a lui carissimo, essendo appunto un frate francescano. Nella conferenza stampa precedente la visita di Papa Ratzinger, tenuta in seguito alla messa per noi giornalisti nella taverna oscura, il vescovo Fontana è stato chiarissimo. 20 minuti di mondo visione per Arezzo sono sicuramente importanti per l'immagine e l'economia della città. Ma non dimentichiamo che la crisi è innanzitutto spirituale. Siamo in un periodo storico che ricorda quello della caduta dell'impero romano. Anche il nostro welfare sta entrando in crisi. Al Papa dirò che un aretino su quattro ha problemi anche economici. Dalla mensa delle famiglie sparisce la frutta una settimana su due. Se ne può uscire solo con la cultura e con la fede. La Toscana non sarebbe di tale importanza senza Arezzo. Recuperiamo quindi la nostra identità, la radice santa del corpo di Donato che va ritrovato. I giornalisti devono aiutare la gente a riscoprire sicurezza dentro di sé. Insegnare a pensare bene è la carità più grande che si possa fare a una persona smarrita. Il Vescovo deve tentare gli increduli con il dono della fede. La cultura deve entrare dentro la complessità del reale per leggere il fatto di cronaca dentro il contesto generativo. La gente è insicura anche per chi urge la presenza di una nuova generazione di buoni maestri, di testimoni della speranza. L'obiettivo è riscoprire la propria dignità come fatto interiore e praticare la carità come chiesa nata dal concilio Vaticano II. La mostra del Vasari nei locali dell'Arcivescovado del 2011 Santo e Bello a basso costo ha attratto ben 15.000 visitatori. La bellezza salverà Arezzo ma non dimentichiamoci di tornare a pregare la Madonna del Conforto una immaginuccia di coccio che diviene fulgida quando due avvinazzati impauriti le si rivolsero dicendole non se ne può più di tutto questo tribolare ora ci voleva anche il terremoto ma tu non fai proprio nulla per noi poveretti aiutaci, te ne preghiamo ed il sisma cessò. Finisce qui la citazione dal Vescovo. reggono e si riscoprono altri lavori del passato in questo senso si colloca il recupero dei mestieri tradizionali locali la rifeudalizzazione buona iniziata con il boom degli agriturismi nobiliari come quello degli albergotti o come la torre insediatosi alla chiassa su un agglomerato abitativo longobardo in precedenza bizantino o quello dei nobili imprenditori arretini Funghini Filippo Funghini e la famiglia verso Bucine rivolto soprattutto agli stranieri oppure l'azienda agrituristica della famiglia Barbagli a San Zeno Comote specializzata in ipoterapia una delle fattorie didattiche coordinate dalla provincia di Arezzo e patrocinate dall'ufficio scolastico provinciale di Arezzo diretto da Fabio Pagliazzi ritorno alla grande nei nostri giorni anche della cucina di una volta favorito dalla dotta divulgazione televisiva del professor Alex Revelli Sorini e del maestro Augusto Tocci così razza chianina non fa più adesso rima solo con bistecca alla fiorentina diventando il marchio di una catena di fast food di qualità dove si serve la carne a chilometro zero come quello in via Guido Monaco intanto la bella e nobile vacca dalla elegante testa piccola bella fuori e bella dentro con la carne magra del formoso e famoso lato B povera di colesterolo macellata morbida dai 17 ai 20 mesi di vita la chianina viene allevata anche nelle sconfinate Pampas argentine che non ne limitano la qualità si apprende così che la gastronomia aretina può sempre contare su evergreen di successo quali il chianti dei colli aretini del bianco vergine di Val di Chiana che si accompagnano felicemente con la porchetta aretina i cui aromi combinandosi con l'equilibrio del sale arrivano pronti all'olfatto col selvatico del finocchio con lo stimolante dell'aglio col mordente del pepe che aggredisce ed eccita palato e gola oppure si accompagnano felicemente agli altri classici piatti aretini che vanno dalla panzanella ai tortellini in brodo dalla minestra di pane e fagioli e cavolo nero ai maccheroni con locio dai crostini di milza ai fegatelli dall'acqua cotta alla scottiglia e tanti altri non esclusi la panna unta e il baldino l'antenato dei due illustri divulgatori culinari di rai e teletruria tocci e reveli sorini è stato nel 1600 il gesuita gaudenzio del collegio di sant'ignazio dove oggi c'è la sala espositiva della galleria di arte contemporanea del comune mentre accanto vi sorge il convitto nazionale vittorio emanuele secondo guido gianni aretino doc è vero esperto delle tradizioni gastronomiche che riguardano la città ha riscoperto e ripubblicato le ricette del gesuita gaudenzio crisi ed opportunità per arezzo l'elegante zona di servizi alle imprese dall'industria sorta a lungo via calamandrei su una via connessa direttamente al raccordo raccordo autostradale autostradale è cresciuta in questi anni va quindi tutelata nonostante la crisi però ecco sembrano oggi anche questi tutti frutti tardivi di una grande stagione al tramonto favoriti da una buona amministrazione bipartisan che però adesso ha a che fare con la crisi globale arezzo è cresciuta tanto in tutti i sensi mantiene la sua banca mentre sia nella perduta mantiene la banca guelfa di firenze che si è dimostrata così solida ad ammettere un suo funzionario nella lista dei ministri conserva la banca di credito cooperativo fondata dal vescovo durante la crisi agraria degli anni 80 dell'ottocento quando col suo microcredito salvò dalla fame e da una più massiccia emigrazione le vittime della politica liberista dell'epoca che importava i grani americani sotto costo senza imporre dazi protettivi tutte banche allineate sul decumano ottocentesco di via Roma Crispi subito all'uscita di piazza Guido Monaco Arezzo si conferma poi oggi come un polo scolastico importante si parla poi di costruire una nuova stazione ipermoderna sul tracciato della direttissima Milano-Roma che comunque ferma già in città mentre forse l'unica cosa che davvero manca sarebbe un piccolo raccordo anulare sul modello di quello grande di Roma che unisse le direttrici in uscita da Arezzo delimitando settori di periferia che potrebbero così svilupparsi per largo e non solo lungo le arterie stradali la piana di Arezzo è congeniale ad un piccolo raccordo autostradale circolare attorno alla città antica che potrebbe raccordare i tratti rettilinei uscenti dal centro quasi secondo i quattro punti cardinali principali e le quattro vallate nord casentino ovest valdarno sud valdichiana est valdiberina fornendo allo stesso tempo una guida a maglie trapezoidali per lo sviluppo anche in largo e non solo lungo le vie principali degli agglomerati urbani distali questa matrice a croce celtica potrebbe così mettere rapidamente in contratto in contatto le periferie fra di loro e con il centro l'ingegner pierlo dovico rupi fa notare che il percorso circolare rilevato inerbato è meno visibile dall'esterno ma l'effetto diga potrebbe mandare in crisi le reti ecologiche mentre un viadotto di oltre 6 metri di altezza non interromperebbe gli usi agricoli e le sottostanti comunicazioni lastre trasparenti antirumore come sull'autostrada del sole intorno a Firenze renderebbero fruibile un nuovo paesaggio da cartolina a 360 gradi della città d'arte murata una bozza di viadotto esiste già e si trova nell'indicatore dove alza via Fiorentina sopra la ferrovia per poi farla confluire nella sottostante strada statale per il Val d'Arno il viadotto ha anche quello che unisce a Pescaiola e la zona dell'Ipercop saltando il raccordo autostradale e la ferrovia tramontato il progetto democristiano degli anni settanta di creare un aeroporto per Firenze a corto di spazi pianeggianti in Val di Chiana con relativo scalo ferroviario sulla direttissima progetto fallito per l'invidia degli infidi pisani con posizioni dominanti nel partito al governo della regione ecco che c'è il problema dell'aeroporto già i tedeschi nel 1943 avevano collocato un aeroporto militare ad Arezzo intersezione delle strade statali 69 per Firenze 71 da Roma e Valdichiana per Forlì e Bologna tramite il passo dei Mandrioli e 73 intersezione alla E45 al Brennero attraverso Cesena e Verona la strada verso Casa attirando così le attenzioni dei partigiani che attaccheranno all'aeroporto col capo brigata Aldo Verdelli gli alleati lo bombardarono a volo radente prendendo di sorpresa agli adirati tedeschi la leggenda vuole che nei bunker sotterranei oggi sotto gli hangar della scuola di paracadutismo tenuta da Ilario De Marchi si agirino le anime inquiete dei militivi rimasti sepolti assieme ad un discreto arsenale che di sepolto potrebbe allestire un interessante museo della seconda guerra mondiale l'aeroporto oggi appartiene al demanio di stato ad un tiro di sasso dall'autostrada del sole dalla ferrovia direttissima questa servitù militare qualora venisse derubricata civile potrebbe diventare l'aeroporto che in Firenze sogna che Pisa non vuole con un discreto indotto sul territorio circostante i nuovi ricchi russi che vengono a comprare i loro gioielli ad Arezzo potrebbero avere un collegamento diretto adagevole con gli orafi ed i metallieri nostrani così Arezzo si trova adesso nella periferia della periferia una situazione già vista durante le invasioni barbariche durante il comando di Carlo Magno e le orene in poi fatta salvo alla parentesi dello stato italiano sino al 2011 anche la nostra città paga il suo tributo di lacrime e sangue all'economia di guerra con una troppo lunga lista nera di morti per tasse usura disoccupazione disperazione diminuiscono i posti di lavoro e di consumo interno aumentano le esportazioni anche se si lavora sempre meno oro e sempre più bronzo anche se l'oro adesso va tutto all'estero continuano le delocalizzazioni e le svendite di imprese retine situazione complicata dal fatto che contemporaneamente alle pretese imperiali ecco che si colloca il processo di unificazione europea calato dall'alto a tappe forzate che sta facendo altri morti e feriti come la rivoluzione francese fu la rivincita degli ugonotti oppressi sui cattolici così la crisi globale altro nome della nuova economic war appare sempre più come la vendetta dei già fuggitivi pilgrim fathers padri pellegrini nei confronti dei papisti e popisti popoli dell'Europa del Sud la crisi diventa una tassa occulta globale che l'impero a prevalenza giudeo-protestante impone ai suoi sudditi a compenso della protezione fornita dall'ombrello anti-atomico delle guerre spaziali che protegge anche Arezzo e dell'apertura forzosa ai mercati dell'universo musulmano la terza repubblica inserisce anche Arezzo nell'economia globalizzata espressione della mentalità post-moderna in cui vive già da tempo l'impero statunitense ora è voluto sì in sacro protestante occidentale globale impero spero ma lasciamo la politica e torniamo alla società post-moderna globalizzata che vive nel web come è messa Arezzo nelle piazze virtuali del mondo oramai villaggio globale per quanto riguarda le comunicazioni viarie abbiamo visto come la città viva di una buonissima rendita situata sulla dorsale autostradale più importante del paese quella tirrenica che porta a Roma è anche all'ingresso dell'unica dorsale adriatica a tutt'oggi più lunga quella è 45 che da Roma va a Cesena e poi sale verso il nord Europa e poi passa da lei anche una delle poche strade trasversali che tagliano l'infido suolo collinare appellinico unendo tirreno e adriatico Grosseto e Fano la terminanda due mari e 78 sicché una stazione sulla direttissima ed un connesso aeroporto potrebbero risolvere i problemi di Firenze con Pisa dell'Alto Lazio e delle Marche creando un nodo comunicativo ai primi posti in Italia capace di competere con Bologna ma con le autostrade informatiche Arezzo come si colloca nessuno mette abbastanza in evidenza il primato nazionale di Arezzo in questo campo una cerniera fra nord e sud Italia di fondamentale importanza strategica per l'economia italiana come ha evidenziato purtroppo anche il recente incendio delle intelligenze artificiali del server Aruba situate in grandi contenitori alle spalle della 1AR la sicurezza nazionale avrebbe imposto un sito più nascosto per queste enormi banche dati gestite da intellettuali aretini che hanno studiato ingegneria a Firenze Arezzo possiede anche il Know How un indipendente centro di ricerca e sviluppo informatico che ha sede in aziende all'avanguardia come Cloud Italia Arezzo entra dunque nel nuovo millennio con un terziario avanzato di tutto rispetto tanto che la nuvola elettronica che cambierà il nostro modo di navigare in internet è stata inventata ad Arezzo chissà cosa avrebbe potuto fare questa città se avesse avuto una università tutta sua propria come nel medioevo ma qual è l'immagine planetaria di Arezzo per saperlo basta fare un viaggio nel mondo elettronico scopriamo così che nell'immaginario collettivo la città che appare nei sogni dei nuovi ricchi russi americani e arabi è quella murata ricca d'arte e di artigiani medievale ed agreste incastonata in una provincia verde come quella del parco nazionale delle foreste casentinesi cioè l'immagine in gran parte fortemente voluta da Pier Ludovico Occhini quello della guerra di Libia che entusiasmerà anche il fanciullino socialista Pascoli declamante la grande proletaria se mossa opera del nazionalista Pier Ludovico Ludovico Occhini ribadita dalla grande opera di rimboschimento e promozione della montagna voluta non dimentichiamolo sempre da Fanfani i nobili aretini hanno molto contribuito a rilanciare gli antichi mestieri gastronomia compresa negli agriturismi aperti alla clientela internazionale funghini e albergotti e altre famiglie nobili aretini hanno lanciato così col nuovo millennio un turismo flessibile cioè legato al semplice interesse per la località selezionata e di suoi abitanti ospitali e sapienti che sta al turismo rigido come le autostrade informatiche stanno a quelle di asfalto ci vogliono entrambe perché nei luoghi si arriva in aereo treno macchina ma la distribuzione del prodotto turistico aretino avviene oramai online per l'85% dei casi considerando i portali ma infatti anche quelli delle pubbliche amministrazioni e le prenotazioni dirette ma l'electronic commerce si basa sulla cosiddetta reputazione brand reputation del cavallino nero rampante buona tavola alta moda arte rinascimentale e medievale cultura elegante ed antica come quella degli antichi codici della biblioteca comunale tutte cose che gli altri continenti non hanno e che vorrebbero rubarci con lo sguardo nessuno si offenda quindi se chi viene qui dall'estero ignora il matematico Severi il più grande algebrista del novecento e gli scienziati locali oltre la cartolina elettronica c'è davvero un tessuto lavorativo una cultura del lavoro non seriale globalizzato ben fatto da fare invidia a mezzo mondo e che cercheranno di acquistare come hanno cercato di fare i russi col codice Vasari occhio a non svendere quindi i segreti artigianali della tradizione e da tutelare la tradizione lavorativa come sta facendo una scuola come il Piero della Francesca non dimentichiamo che comunque vada la nostra città può vantare eccellenze nei campi della musica classica e moderna dell'oreficeria dell'antiquariato dell'arte e della pittura Arezzo è oggi la città degli otto grandi musei quattro statali archeologico Caio Cilnio Mecenate Casa Vasari d'arte medievale e moderna Cappella Baccia e Freschi di Piero della Francesca è la città dei quattro grandi musei privati Casa Museo Evambruschi Museo Diocesano d'arte sacra Museo aziendale Gori Zucchioro Museo Museo dei mezzi di comunicazione otto musei che contano centocinquantamila ingressi all'anno Arezzo è la città di Guidoneum Festival dal 2007 il Festival Polifonico Internazionale affiancato al concorso polifonico internazionale dal 1953 che vede in gara corali e ensemble vocal strumentali e dal 2002 scuola superiore per direttori di coro Arezzo è la città di Oro Arezzo mostra internazionale dell'oreficeria argenteria e gioielleria che si svolge dal 1979 in aprile al centro affari è la città di Arezzo Equestrian Center uno dei più grandi terreni di salto ad ostacoli del mondo del turismo sportivo familiare col sentiero di Bonifica pista ciclabile di 62 km di 62 km dal centro alla chiusa dei monaci quindi a chiusi in parallelo al canale della Bonifica Leopoldina della Chiana per non parlare dei 350 figuranti del corteo storico della giostra e dei 200.000 visitatori all'anno della fiera antiquaria nonostante la tremenda congiuntura internazionale oggi Arezzo appare e resta una città ricca di storia e cultura mai chiusa nel suo passato e feconda e attiva più che mai per rendersene conto basti pensare alla gloriosa giostra del Saracino cui gli aretini sono tanto legati è una delle manifestazioni più antiche d'Italia e lo spirito che l'anima è ancora quello di molti secoli fa molte sono le iniziative legate alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio di questa città ad esempio alcune iniziative si propongono di far conoscere il famoso artigianato aretino Piazza Grande ospita una volta al mese la fiera antiquaria un evento di grande importanza che richiama appassionati e curiosi Arezzo è infatti la capitale dell'antiquariato toscano ed è sede da molti secoli di numerose e importanti lavorazioni artigianali ciò che rende così solida questa tradizione cittadina è la trasmissione del sapere di generazione in generazione all'interno delle imprese a conduzione familiare e nelle scuole a volte gli stessi aretini si definiscono schivi e un po' rudi ma forse è proprio grazie a questa caratteristica che tramandano da secoli la loro preziosa tradizione artigiana la tradizione orafa ad esempio risale al XIV secolo e ha reso famose le botteghe cittadine nelle corti europee oggi questa antica tecnica è portata avanti da molte aziende artigiane e si affianca alla lavorazione del pellame della pietra del legno e del ferro battuto anche la trasformazione del legno ha radici molto profonde ad Arezzo e provincia testimoniate dalla presenza di numerosi mobili fisci le aziende artigianali a retine molte a conduzione familiare riescono a valorizzare i canoni estetici tipici del territorio senza tralasciare il design contemporaneo e l'innovazione grazie alla scuola in questa vivace zona d'italia dobbiamo parlare di industria nel senso antico del termine il suo significato latino di operosità visto che l'industria moderna sta scomparendo recuperare quindi tutelare l'artigianato proprio l'operosità dei suoi cittadini a risuarezzo famosi in tutto il mondo per i suoi prodotti per i suoi prodotti artigianali oltre che per le sue bellezze artistiche con questi valori si può guardare ben oltre qualsiasi tetro futuro ma l'arezzo futura come sarà come in un quadro del pittore aretino zenone alias emilio giunchi il cuore caldo rosso come i tetti e giallo intenso come le case protetto da nuove mura dal disegno antico assediato dalla bianca neve e ghiaccio del vasto mondo globale su cui pattinano lieti alcuni enigmatici fraticelli francescani via con le ultime date simboliche 2014-2034 durante il ventennio renziano riusciremo a scaldarci muoverci illuminarci col solare fotovoltaico a pagare i servizi comunali all'istante alla bisogna con un sms a visitare i musei con una app che via satellite ci spiega quello che abbiamo davanti avremo piattaforme wireless connettività in fibra ottica teleriscaldamento ed efficienza energetica ed energie rinnovabili non inquinanti insomma riusciremo a vedere la smart city città intelligente furba già prefigurata dall'ottimo sistema dei parcheggi periurbani alcune date simboliche dal futuro prossimo 2016 anniversario leonardiano renzi svelerà l'affresco della battaglia di anghiari celato e conservato da quello di vasari in palazzo vecchio un'occasione per rilanciare il paesaggio aretino compreso il ponte aburiano sullo sfondo della gioconda 2015 centenario della prima guerra mondiale arezzo ricorda i suoi 600 fanti morti in prima linea nel corso dell'inutile strage 2011 cinque centenario della nascita di vasari la cultura sopravvive al terremoto globale le celebrazioni fanno il giro del mondo e con esse il nome di arezzo ma manca ancora una lapide sulla facciata della casa natale dell'artista in via mazzini fa notare il sovrintendente michele loffredo arezzo come firenze si dimostra carente di gratitudine settembre 2012 prende il via l'istituto omnicomprensivo piero della francesca il dirigente scolastico luciano tagliaferri già catechista di renzi e che ha studiato a firenze fonda la scuola più grande nella storia di arezzo ed era anche la più grande scuola della toscana un solo precedente regge il confronto ma risale ad un secolo fa quando camillo lelli futuro sindaco della grande guerra in piena belle epoche mette insieme un mega istituto tecnico da cui nasceranno con la riforma gentile del 1923 il commerciale Bonarroti lo scientifico Redi il geometri Fosso Ambroni che fanno compagnia ad un'altra sua creatura il professionale Margaritone cento anni dopo Tagliaferri accorpa il glorioso convitto nazionale Vittorio Emanuele II divenuto nel frattempo istituto comprensivo in quanto unisce elementari e medie con ben tre indirizzi di superiori liceo artistico coreutico e scientifico internazionale nelle lingue russa cinese statunitense portoghese per il Brasile nasce così un vero e proprio istituto omnicomprensivo il piano della Francesca con 1700 studenti la scuola più numerosa della Toscana con al suo interno il secondo convitto d'Italia per iscritti una scuola pubblica d'eccellenza che prepara al classico Petrarca la nuova classe dirigente a retina ma anche allo scientifico internazionale il liceo artistico è già impostato come scuola impresa nel settore confezioni di alta moda e come scuola bottega nel settore orafo e metalli dove i giovani creano gioielli ed opere d'arte come ai tempi degli avi etruschi esso comprende moda e costume teatrale stampa serigrafia gioiello audiovisivo e multimediale arti figurative architettura ed ambiente grafica legno e liuteria ad anghiari lo scientifico apre al vasto mondo all'internazionalizzazione dei mercati anche con stage e tirocini all'estero attraverso borse di studio messe a disposizione da soggetti pubblici e privati l'italia è un paese manifatturiero arezzo è una città manifatturiera il made in italy è nato negli istituti tecnici ed è stato la chiave del boom economico del dopoguerra oggi occorre licealizzare con un supplemento di cultura quel saper fare artigianale unico al mondo reinventandolo tecnologicamente e diffondendolo ad un ancora più vasto mondo arte diritto economia inglese multimedialità sono le nuove discipline rivolte agli artigiani ed imprenditori aretini del nuovo millennio la scuola può così contribuire alla sconfitta della crisi globale virgolette aperte afferma tagliaferri il nostro liceo è stato segnalato dallo stesso ministero come una delle 17 scuole italiane che si distinguono dal punto di vista del collegamento con il tessuto culturale imprenditoriale e del mondo del lavoro del territorio nel quale opera chiuse virgolette questa capacità scolastica di sostenere le filiere territoriali fatte di interessi vitali valori immateriali e relazioni comunitarie balza agli occhi leggendo chi c'è dietro déjà vu febbraio-marzo 2014 la mostra di abiti di una contessina della Val di Chiana del 1800 nella chiesa sconsacrata di Sant'Ignazio in passato usata come palestra adesso bella sala espositiva in scenografico barocco che le espropriazioni leopoldine hanno salvato da posteriori rimaneggiamenti contessa dalla fondazione Tirelli di Palazzo Pitti a Firenze invece secondo Carlo Anassini presidente del consorzio Arezzo Fashion e Design che col liceo artistico tra i pochi in Italia con un indirizzo di design della moda unita a storia del costume teatrale l'ha allestita l'esposizione diventerà un importante museo dei costumi storici di tutte le epoche ed intanto resta aperta a tempo pieno durante la fiera anticoaria segnali di ripresa scuole ben organizzate ed allarme sociale questa è Arezzo oggi quale sarà il suo futuro chi vivrà vedrà l'armi l'amir con per l'amir a quale di se av per l'amir Grazie.